Ci troviamo oggi in Galleria Roma, un luogo adibito al commercio, un'area del centro storico che spesso però si trasforma in un luogo di disagio e di risse da strada ed è quanto accaduto domenica pomeriggio intorno alle ore 15. Un gruppo di stranieri provenienti probabilmente dall'est ha dato vita a una vera e propria azzuffata. E' loro malsana abitudine infatti quella di stazionare per lunghi tratti della giornata davanti alle vetrine della banca, ormai chiusa da mesi, accompagnati da tanto alcol che poi spesso accende vere e proprie liti. Un diverbio che purtroppo, come accaduto altre volte, si è infervorato anche in una domenica pomeriggio apparentemente tranquilla e che ha generato inevitabilmente del caos tra i passanti e i commercianti dell'area. Le persone coinvolte nell'episodio sono circa una decina e sembrerebbe che il diverbio sia stato scatenato da futili motivi. Dopodiché gli animi si sono scaldati, si è passati alle mani e nello scontro, durato qualche minuto, un uomo è stato ferito ad una gamba dalla quale ha perso una grande quantità di sangue. L'arma utilizzata non è stata ancora identificata. Qualcuno parla di un coltello, altri vociferano che si sia trattato di alcuni pezzi di vetro derivanti da una bottiglia. Una scena, quella dello scontro, che come potete vedere alle mie spalle, ancora presenta tracce di sangue che sono state pulite proprio in questi momenti, proprio oggi, a distanza di due giorni. Avvenimenti di questo tipo in Galleria Roma avvengono da diversi anni e a rimetterci in prima persona ovviamente sono i gestori dei negozi che da tempo hanno richiesto un intervento importante alle istituzioni. Quest'estate, per ultimo in ordine di tempo, i commercianti della zona hanno fatto una raccolta firme per poi mandare un esposto tramite avvocato alle autorità competenti, senza però aver ricevuto una risposta.